Ciao a tutti! Oggi prepareremo le frittelle Luna Park. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, acqua, lievito in polvere per dolci vanigliato, zucchero, olio, vanillina e sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina, il lievito, lo zucchero, l'olio, la vanillina, il sale e l'acqua. Ed azioniamo il bimbi per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in un piano di lavoro infarinato. Adesso lo divideremo in piccole palline. Adesso formiamo delle piccole palline. Adesso le lasceremo riposare per 10 minuti. Adesso schiacciamo ogni pallina al centro. in realtà formate le nostre frittelle andiamo a friggerle in olio bollente. frittelle Luna Park. Grazie e alla prossima. ricetta. frittelle Luna Park. Grazie a tutti.